Musica Telespettatori marchigiani, buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. È iniziata l'estate e purtroppo c'è da registrare la solita recrudescenza del fenomeno dei furti in appartamento. Cominciamo da Pesaro dove però i ladri sono restati a mani vuote nella zona panoramica Ardizio. I soliti ignoti infatti si erano introdotti in un'abitazione forzando la finestra di una delle numerose villette presenti in quell'area. All'interno c'erano i proprietari che dormivano profondamente, non però il figlio le cui urla hanno indotto i malviventi a darsela a gambe facendo comunque perdere le loro tracce. Ad una prima ricognizione sembrerebbe che non ci siano stati prelevamenti di alcun genere. Diverso invece l'esito a San Benedetto del Tronto dove in una casa di Viale de Gasperi i ladri hanno preso di mira la cassaforte agendo con tutta calma e trafugando denaro ed oggetti preziosi per un bottino ancora da quantificare. Rubano un furgone e danno l'assalto al bancomat dell'ufficio postale di passatempo di Osimo. È successo nella notte dopo che i ladri avevano rubato il mezzo in un'autofficina di Padiglione. Con questo hanno tentato senza successo di sfondare lo sportello automatico. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. E restiamo alla cronaca. Sospesi dal servizio tre dipendenti di Connerobus accusati di molesti sessuali ai danni di una disabile. Sono stati sospesi dalla Connerobus tre dei quattro dipendenti, uno di loro già in pensione, rinviati a giudizio con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una disabile. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda di trasporti anconetana quindi non ha atteso l'esito della sentenza del Tribunale, almeno relativamente al primo grado. Pesantissimi gli addebiti che vengono contestati dal GIP Paola Moscaroli. Per l'azienda, si legge in una nota diffusa nella serata di ieri, si tratta di un atto dovuto in attesa di ulteriori verifiche e non si stabilisce, almeno per il momento, la durata della durissima sanzione disciplinare. Secondo gli inquirenti, i quattro autisti avrebbero conosciuto la vittima durante il loro servizio, visto che la donna lavora in ambito scolastico ed utilizzava il mezzo pubblico praticamente tutte le mattine. Dopo i primi approcci confidenziali, gli accusati avrebbero approfittato della disabilità psichica della donna, cinquantenne, invitandola a consumare rapporti sessuali plurimi. Una tresca è andata avanti almeno per 12 mesi, sin quando, 5 anni fa, gli assistenti sociali scoprirono una serie di messaggi telefonici inequivocabili. Una torbida e triste vicenda sulla quale permangono ancora molti motivi di incertezza. Ancora una notizia di cronaca, sono state le telecamere di sicurezza ed alcune testimonianze ad incastrare un 25enne che diverse notti fa avrebbe danneggiato gli arredi esposti al pubblico di un ristorante nel pieno centro storico di Treia, oltre a diversi vasi di fiore, ad allertare le forze dell'ordine, i residenti della zona molestati da rumorosi schiamazzi. A causa della rottura di una tubatura dell'acquedotto, un fiume d'acqua invaso ieri via Scrima, ad Ancona, tra Piano San Lazzaro e Posatora, sono stati residenti a dare l'allarme dopo aver sentito dei rumori e visto spruzzi d'acqua che avevano divelto un tombino con la strada invasa anche da detriti e ghiaia. Secondo molti servizi, la condotta idrica ha ceduto, provocando un'importante fuoriuscita d'acqua, quasi 50 litri al secondo. Si tratta della principale condotta di alimentazione della zona ed un centinaio di famiglie sono rimaste senza acqua. E con l'avvio della stagione balneare ha preso anche quest'anno il via all'operazione Mare Sicuro. Sentiamo. Come nello sport, anche in mare le regole sono fondamentali ed è importante seguirle per la sicurezza di tutti. Parla così Valentina Vezzali, la jesina pluricampionessa olimpica di Fioretto nella scherma, che quest'anno è stata scelta come testimone al regionale per la campagna Mare Sicuro della Guardia Costiera. Partito ufficialmente nella nostra regione dal 16 giugno, interesserà l'intero litorale marchigiano. Vedrà impegnati 400 uomini e donne della Capitaneria, 39 mezzi terrestri, 25 unità navali e velivoli del secondo nucleo aereo di Pescara. L'ex schermitrice, ora dirigente federale, era sulla banchina del porto antico di Ancona per spiegare i motivi della sua decisione. Da campionessa e da mamma di due bambini che passano l'estate sulla spiaggia di Senigalli ha detto condivido le finalità di questa campagna che mira la sicurezza in mare. Per lei un omaggio floreale ed i saluti del contrammiraglio Enrico Moretti, direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di Porto di Ancona. Sta partendo la campagna Mare Sicuro, è un ulteriore anno in cui saremo presenti, quindi sosteneremo uno sforzo operativo maggiore per essere presenti sulle spiagge e per essere di garanzia del corretto, ordinato e sereno svolgimento di un periodo in cui le persone dovrebbero essersi in vacanza ma possibilmente non con il cervello. Quindi è una presenza volta a instillare una forma di rispetto del mare, di se stessi e degli altri. Il caso Wilpul di Comunanza al centro dell'attenzione della conferenza dei capigruppo consigliari e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che hanno incontrato ieri una delegazione di rappresentanti sindacali. Sono 131 gli esuberi dichiarati dall'azienda che ha annunciato il trasferimento di una parte della produzione nel sito di Napoli. Un grave colpo per l'occupazione di tutta la zona colpita da una forte crisi economica e sociale e che coinvolge numerosissime famiglie. L'Assemblea legislativa ha approvato poi all'unanimità una mozione e un ordine del giorno. Prossimo appuntamento venerdì 6 luglio al Ministero per lo Sviluppo Economico con la partecipazione della proprietà. Ci spostiamo a Macerata dove sono state presentate le numerosissime iniziative estive che animeranno il centro storico e non solo. Sentiamo. Macerata d'estate, un mondo da esplorare. È lo slogan della rassegna estiva con musica, arte, spettacoli, cultura e ospiti di livello come gli scrittori Valerio Massimo Manfredi ed Eva Cantarella. Fino a settembre saranno 290 gli appuntamenti suddivisi per 735 giornate seguendo il concetto che ogni giorno vale per 6, 3875 ore di attività e oltre 70 associazioni coinvolte in 27 location diverse anche al di fuori del centro storico. Quest'anno per la prima volta si festeggerà anche il compleanno della città, 880 anni. Per la maggior parte si tratta di iniziative gratuite. La novità è il Macerata Jazz Estate nella splendida cornice del cortile di Palazzo Buonaccorsi per una tre giorni dal sello 8 luglio di musica, storia, arte e gusto tra vini, arte e jazz. Ovviamente il posto di primo piano lo occupa il Macerata Opera Festival ma anche Recina Live al Teatro Romano di Villa Potenza con due appuntamenti sabato e domenica che presenteranno rispettivamente una serata di musica e teatro dedicato al flauto magico e una tappa del Tau, Teatri Antichi Uniti, con Valerio Massimo Manfredi che proporrà un viaggio dall'Iliade alla Prima Guerra Mondiale. 15 le mostre in città e torna anche il cinema all'aperto nel cortile di Palazzo Conventati. Infine i grandi concerti con i nomi di spicco del panorama musicale internazionale e nazionale Max Gazzè, Vinicio Capossela, Simple Minds, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Motta, Carl Palmer, Ben Harper e poi Enrico Brignano e il musical Jesus Christ Superstar. Ed apriamo ora la pagina sportiva con il basket. L'Aurora Iesi ingaggia per la prossima stagione Leonardo Totè, vent'anni alla grande di due metri e nove centimetri, cresciuto nella Scaligera Verona e nella Reier Venezia. Nella sua carriera esperienze anche a Brescia e in varie rappresentative nazionali giovanili. Al suo fianco troverà un autentico leader della squadra arancio-blu come Tommaso Rinaldi. Il campetto basket Tancona, targato Luciana Mosconi, conferma per il prossimo campionato di Serie B lungo 31enne Lorenzo Baldoni al suo terzo anno, quindi nel club Dorico. Alcuni movimenti nel mercato calcistico di Serie D, dove il difensore ex Civitanovese San Giustese Solomon Eno, classe 1987, approda al Castelfidardo. Nico Stallone, dopo aver guidato per molte stagioni in Monticelli, lascia il club Piceno appena retrocesso in eccellenza ed assume la guida tecnica del Real Giulianova, tornato quest'anno nel massimo torneo dilettantistico. Andiamo a Amatelica con le interviste registrate per noi da Sara Santacchia, al neodirettore sportivo Micciola e dal confermato tecnico Tiozzo, nel corso di una conferenza stampa sabato scorso. Il nuovo direttore sportivo del Matelica, Francesco Micciola, come inizia questa nuova avventura? Questa nuova avventura la iniziamo con tanti stimoli, tanta voglia di fare bene, con la mentalità giusta sono venuto qui per fare bene insieme allo staff tecnico e alla squadra, adesso siamo in fase di mercato, costruiremo una squadra all'altezza di Matelica. Lei è un profondo conoscitore del girone F di Serie D, che presumibilmente sarà poi il girone all'interno del quale sarà inserito anche il Matelica. Ha già svolto questo ruolo al San Nicolò, l'Avastese, che tipo di giocatori dovranno arrivare a Matelica? Sicuramente dovranno arrivare giocatori che sposano il progetto, giocatori che sudano la maglia, che hanno voglia, ragazzi seri, uomini importanti. Dobbiamo costruire una squadra all'altezza, un gruppo coeso e poi il campo, il lavoro quotidiano dello staff tecnico. Con questo vediamo di fare una stagione positiva, come ha sempre fatto il Matelica. Mister Luca Tiozzo, confermato insieme allo staff tecnico, quindi per il secondo anno consecutivo siederà sulla panchina del Matelica. Da cosa riparte? Riparto da dei rapporti già collaudati, riparto dal mio staff che l'altro anno non conoscevo e quest'anno conosco molto bene, uno staff che magari se ne parla poco, si parla più del sottoscritto, ma è uno staff veramente di categorie superiori. Si riparte da un top player, dicevo prima in conferenza stampa, che è la società. La serietà di questa società, la voglia di far bene, la voglia di provare comunque ad essere protagonisti. Noi come staff, noi come squadra, noi come società. Questo deve essere ancora una volta il nostro top player. E chiudiamo con il tennis, è tutto pronto a Recanati per il Guzzini Challenger, il torneo di tennis valido per la classifica ATP che si svolgerà quest'anno dal 30 giugno all'8 luglio. Quest'anno il premio alla giovane promessa sarà intitolato alla memoria del maestro Stefano Carlo Rossi, scomparso recentemente. Riconfermato il monte premi di 43.000 euro che garantisce soprattutto a livello tecnico la partecipazione di giocatori di primo ordine, ci sarà il belga Bemelmans numero 103 del mondo, mentre la truppa degli italiani sarà guidata da Thomas Fabiano, già vincitore dell'edizione 2013. Con questo è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Appuntamento a domani.